buongiorno a tutti e benvenuti sul canale dedicato alla fotografia in grande e ultra grande formato sono marco narratore oggi iniziamo la trattazione di un argomento che è stato per me molto difficile si tratta della lettura di un libro di willem fluss scritto nel 1985 originariamente in tedesco ed intitolato in universum del technischen bilder che suona più o meno come verso un universo di immagini tecniche discussione di questo libro è stata suddivisa in cinque puntate del risultato di quasi sei mesi di lavoro ovviamente non a tempo pieno non ho paura a confessare di essere stati in un paio di occasioni sul punto di mollare tutto le cinque puntate non verranno pubblicate uno di seguita l'altra perché non sono un sadico e perché non volevo una fuga in massa dal canale ne proporrò opportunamente distanziate l'una dall'altra quindi insomma se avete lo spirito del maratoneta e siete disposti a passare attraverso un'esperienza che mi permetto di definire trasformativa non per le mie abilità oratorie ma per il contenuto del libro di fluss ovviamente seguitemi in questa e nelle prossime tre puntate se avete fretta e volete arrivare al dunque la quinta e ultima puntata condenserà in qualche modo le prime quattro puntate il contenuto della quinta e ultima puntata non è ancora definito al momento che registro questa prima puntata per tutta una serie di motivi che non sto a dirvi che vi risparmio la recessione del libro è stata organizzata con una puntata riassuntiva alla fine per un semplice motivo il libro di flusser è esattamente organizzato in questo modo se avete capito bene il libro termina con un sommario in cui il nostro racconta il contenuto del libro con un paragrafo riassuntivo per capitolo paragrafo per capitolo se pensatevi essere interessati all'argomento fatevi una bella tazza di tè mettetevi i comodi e prendetevi il tempo necessario perché la scalata di oggi è quella delle puntate che seguiranno dedicata a questo libro è una di quelle veramente toste ma proprio cattiva 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 ci vediamo sabato prossimo non voglio darvi troppi aiutini perché penso che questo inquinerebbe l'esperienza ma è necessario che vi dia due informazioni la prima strategica e della chiave di lettura del libro se l'avessi saputa prima avrei penato molto meno e goduto nella della lettura molto di più la chiave di lettura non è mia ma dello stesso fluss che la presenta alla fine del libro pronti per la chiave di lettura eccola il libro è una favola flusser usa proprio fabel nel testo originale tedesco la seconda informazione tattica non strategica e della definizione di cosa sia un'immagine tecnica flusser non funghi non fornisce mai una definizione l'assume come ovvia ma ovvia nel 2021 lo è meno allora un'immagine tecnica è un qualcosa sempre generato da un apparato per noi appassionati fotografi verrebbe naturale pensare alle fotografie fermarci lì facendo così non capiremo nulla di quello che flusser scrive per flusser la complicazione dell'apparato non fa alcuna differenza invece di darmi una lunga e tortuosa definizione mia vi do degli esempi di cosa sia un'immagine tecnica così ci capiamo subito allora una nikon f2 a pellicola produce un'immagine tecnica una nikon digitale produce un'immagine tecnica un'immagine tecnica è quella prodotta da una videocamera digitale ma anche da una macchina cinematografica pellicola il film insomma è un'immagine tecnica e poi rullo di tamburi attenzione a questo punto perché cruciale pronti una immagine tecnica è anche il rendering su un monitor di un aereo passeggeri come risultato di una simulazione tridimensionale fatta da un programma di computer aided design su un super computer in altre parole le immagini tecniche sono anche tutte le rappresentazioni visive di ciò che non è testo e che si vede a monitor su un computer come risultato del programma che gira internamente perché per flusser il programma programma tra virgolette che gira nell'apparato che si chiama nikon f2 ho usato di proposito un esempio di macchina a pellicola è qualitativamente identico per le considerazioni che vuol fare nel testo a quello che oggi per esempio si chiama motion e che gira sul mio apparato che si chiama macbook e che mi permette di creare un video la versione del libro in inglese si intitola into the universe of technical images la traduzione in italiano potrebbe essere verso un universo di immagini tecniche non esiste un libro in italiano di flusser con un titolo simile esiste però il libro intitolato immagini punto come la tecnologia ha cambiato la nostra percezione del mondo edito edito da fazzi e pubblicato nel 2009 e ancora disponibile su amazon italia io penso che sia proprio questo ma non avendolo in mano non posso essere sicuro al cento per cento nel seguito le frasi che riporto sono la mia traduzione della versione in inglese che è quello che ho letto quindi come al solito non cercate corrispondenze esatte con un'eventuale traduzione ufficiale in italiano perché il libro in italiano se anche fosse quello che ho citato prima non è stata la mia fonte io ho letto il libro in inglese i vari link alle varie versioni sono come sempre riportati nella descrizione della puntata la complicazione di questo scritto mi ha costretto anche a comprare la versione originale in tedesco per capire non fidandomi di chi ha tradotto il libro in inglese cosa flusser volesse veramente dire aggiungo solo che il mio tedesco non è a livello di sondare i veri significati di flusser ma fortunatamente lo è quello di mia moglie che per l'occasione è stata assunta a titolo gratuito e che devo ringraziare è per rispetto verso il professionista che mi sento in dovere di fare i complimenti alla traduttrice del libro in inglese nancy and roth perché ha veramente fatto uno splendido lavoro traducendo alcuni neologismi in tedesco con neologismi in inglese che mantenevano l'essenza di quello che in tedesco flusser aveva voluto dire flusser va preso per lo meno in ambito fotografico con le pinze c'è chi lo esalta e chi non lo sopporta proprio come penso abbiate ormai capito nelle recensioni dei libri cerco sempre di essere onesto nel presentare quello che l'autore dice e stare lontano da considerazioni personali questo perché penso che a nessuno che segue il canale freghi qualcosa di quello che io penso del pensiero di flusser o di bar o di marra quando proprio vengo tirato per i capelli cerco di entrare in punta di piedi nell'argomento e di ritornare alla presentazione diciamo spersonalizzata del testo il più in fretta possibile sarà così anche con questo libro di flusser la regola quindi è che quando non leggo letteralmente il testo del libro ma parlo sto riassumendo al meglio di quanto posso fare il pensiero di flusser tutto quello che sentite è quello che dice flusser nel libro insomma se c'è un mio personale intervento questo è segnalato chiaramente nella grafica oppure attraverso un avvertimento esplicito prima di affrontare il libro lo inquadriamo storicamente il periodo e l'autore flusser nasce a praga nel 1920 e muore per un incidente stradale nel 1991 di famiglia ebraica il nazismo stermina la famiglia e lui solo si salva flusser si stabilisce poi in brasile per una trentina d'anni a cui segue il suo ritorno in europa in francia per la precisione all'inizio degli anni settanta studia filosofia ma concentrerà il suo interesse sulla comunicazione se dobbiamo applicare una etichetta flusser le etichette sono sempre odiose ma qualche fu una qualche funzione servono lo possiamo definire come un filosofo dei media e della comunicazione flusser viene a contatto con la fotografia nel 1981 attraverso un incontro molto importante nella vita del filosofo quello con andreas müller pole fotografo ed editore questo incontro focalizzerà l'interesse di flusser verso la fotografia e risulterà in una serie di saggi sull'argomento il primo del 1983 è intitolato per una filosofia della fotografia pubblicato in italiano questo c'è in italiano sicuramente un secondo saggio nel 1985 è l'argomento della puntata di oggi come era il mondo fotografico e tecnico nel 1985 sociale politico capiamo in quale ecosistema flusser scrisse il suo saggio attraverso una breve lista di eventi il domain name system in internet quello si chiama dns viene creato la minolta mette in vendita la prima macchina fotografica reflex autofocus amadeus de miloš forman vince l'oscar la coca cola mette in vendita la new coke con una nuova ricetta e con esiti commerciali disastrosi viene scoperta l'esistenza del buco dell'ozono i resti di josef mengele morto sepolto sotto falso nome nel 1979 in brasile vengono riesumati e positivamente identificati commodore presenta il personal computer amiga steve jobs abbandona apple e fonda next microsoft rilascia la prima versione di windows l'analisi del dna è usata per la prima volta in un processo la canon produce la ci 10 una macchina fotografica digitale da 200.000 pixel le immagini venivano registrate su un floppy disk grande successo del macintosh personal computer presentato l'anno precedente vengono presentate fotocamere digitali sperimentali con una risoluzione da un milione di pixel la kodak presente il suo sistema integrato per fotografia digitale dalle macchine fotografiche ai computer al software per trasmettere le immagini su linee telefoniche muore andrei kertes a 89 anni il sottoscritto vive lavora negli stati uniti dove usa arpanet che allora collegava una sessantina di università e centri di ricerca l'uso era principalmente lo scambio di email e documenti tecnici innanzitutto cosa sono le immagini tecniche per flusser sono quelle fotografiche o della televisione flusser premette subito che il saggio non va letto come una visione del futuro ma come una critica del presente anche se tutta l'opera non può ignorare la grande inevitabile rivoluzione nella comunicazione che sta cominciando proprio adesso adesso nel senso del 1985 ovviamente l'assunto fondamentale di flusser è che la comunicazione scritta avrà sempre meno importanza e che nel futuro nel futuro prossimo la comunicazione sarà dominata dalle immagini questo crea tutta una serie di problemi ma anche di opportunità flusser non è un pessimista cerca di essere un osservatore magari preoccupato gli interessi esistenziali dell'umanità saranno focalizzati su queste immagini tecniche da adesso in avanti userò spesso solamente la parola immagine ma il riferimento sarà sempre a fotografie video monitor di computer eccetera i problemi sorgono dalla produzione dalla gestione e dal consumo di queste immagini flusser però scrive presentando il saggio questo saggio non cerca di suggerire qualche soluzione ai problemi che ci troviamo davanti ma piuttosto di sfidare le tendenze fondamentali su cui questi problemi giacciono flusser dice che negli ultimi decenni il mondo delle immagini fotografie ma anche video televisione monitor di computer ha preso il sopravvento sulla comunicazione scritta che per sua natura è lineare questo sta creando una rivoluzione la cui portata al momento facciamo fatica a comprendere tanto è drastica il motivo principale di questo è che l'essere umano a differenza di tutti gli altri animali si affida per la sua esistenza molto di più all'informazione trasmessa che a quella genetica un drastico cambiamento nel come questa informazione viene trasmessa non può non creare un passaggio epocale nella nostra esistenza la scrittura ci ha accompagnato per circa 4 mila anni ed è con essa che è anche nata la storia s maiuscola prima di questo periodo nei 40 mila anni di preistoria dominavano altri veicoli di comunicazione ed è interessante notare che erano immagini tipo quelle che troviamo nelle grotte paleolitiche però non è che nei 4 mila anni di storia le immagini fossero scomparse anzi vogliamo allora dire che la scrittura ha avuto insomma un ruolo marginale e che le immagini sono sempre state tra noi e che adesso ritornano di prepotenza facendoci quindi tornare ad un mondo magico quasi preistorico flusser dice che questa posizione è errata perché le immagini di oggi sono strutturalmente differenti da quelle che si trovano nelle caverne e che lo scopo del saggio è proprio di dimostrare questo le immagini di oggi non ci spostano indietro in un mondo preistorico ma avanti in avanti in un mondo post istorico senza dimensioni per supportare questo argomento flusser deve evidenziare la differenza tra le immagini preistoriche e quelle tecniche odierne e lo fa usando una scala con cinque pioli nel primo piolo animali e ominidi convivono in uno spazio tempo a quattro dimensioni questo è il livello di esperienza concreta nel secondo uomini delle caverne si confrontano con la tridimensionalità di ciò che li circonda e soprattutto sulla capacità di manipolare in senso fisico gli oggetti quindi pari parliamo di figurine ricavate dal legno piuttosto che di lame ottenute dalla selce si afferra e si intaglia quindi nel terzo piolo arriviamo l'uomo sapiens in cui la tridimensionalità della esperienza si traduce in bidimensionalità come nei dipinti rupestri delle cave del paleolitico nel quarto piolo siamo arrivati a 4000 anni fa qui avviene una successiva mediazione la scrittura lineare diciamo lo scritto che viene introdotto tra le immagini e l'essere umano omero la bibbia la storia con la s maiuscola appartengono a questa fase anche la comprensione la spiegazione appartengono a questa fase l'ultimo piolo il quinto è quello in cui stiamo entrando adesso per spiegarlo preferisco riportare quello che flusser scrive su di esso dice lo scritto ha ultimamente mostrato di essere inaccessibile non permette alcuna ulteriore mediazione pittorica è diventato poco chiaro con l'assa in particelle che devono essere raccolte riassemblate questo livello è il livello del computare del calcolare questo piolo è il livello delle immagini tecniche ecco se la frase vi sembra oscura pazientate solo qualche minuto perché ci ritorniamo sopra e la decliniamo in modo più digeribile flusser si premura subito di difendersi da una possibile ed errata dice lui interpretazione di questo modello a cinque pioli dice che non è certa sua intenzione rappresentare in un modo così semplicistico il percorso della storia culturale dell'uomo lo scopo è di focalizzare invece l'attenzione sui passi che hanno portato da un piolo a quello successivo e da questa analisi che si può concludere che immagini tecniche e immagini tradizionali nascono da un posizionamento nei riguardi dell'esperienza concreta totalmente differente quindi non si può parlare di un ritorno ad un mondo preistorico le immagini tecniche sono un mezzo di comunicazione totalmente nuovo flusser conclude dicendo che siamo veramente di fronte ad una rivoluzione culturale cercando di prevenire un'ulteriore critica flusser scrive che qualcuno potrebbe obiettare che non è necessario usare uno scenario così immenso che spazia due milioni di anni basterebbe dire che le immagini tecniche sono quelle che vengono prodotte da apparati tecnici ma lui sostiene che un approccio di questo genere non farebbe giustizia cito al favoloso nuovo modo di vivere che sta emergendo attorno alla alle immagini tecniche favoloso nuovo modo di vita per apprezzare la portata di questa rivoluzione dobbiamo ambientarla in uno scenario immenso come la storia del luogo perché è rivoluzionaria si è accennato prima all'importanza non del singolo piolo come elemento statico ma del passaggio tra uno e successivo allora riprendiamo adesso questo argomento e consideriamo quindi i quattro passaggi che collegano un piolo al successivo primo passaggio quindi tra il primo e il secondo piolo l'essere umano dice flusser a mani più sofisticate di quelle delle scimmie e possono fermare o comunque gestire il mondo che lo circonda le mani possono gestire oggetti e quindi l'essere umano interagisce con la tridimensionalità di quello che lo circonda l'essere umano convive con oggetti e impara tra virgolette gli oggetti all'interno di un'esistenza di soluzione di problemi questo universo di oggetti si carica di informazione portata dal soggetto il risultato è cultura secondo passaggio dal secondo al terzo piolo le mani sono controllate dagli occhi si vede e si fa pratiche teoria diventano principi base dell'esistenza si osservano situazioni e le si gestiscono le mani non vedono relazioni ma gli occhi si e su questo si possono costruire modelli per future azioni siano quindi presupposti per una visione del mondo questo è il mondo delle immagini tradizionali terzo passaggio dal terzo al quarto piolo l'essere umano ha davanti a sé oggetti e le loro immagini e attraverso queste immagini bidimensionali per costruzione ma che si riferiscono ad oggetti tridimensionali che l'essere umano entra in un cerchio cerchio per cui l'immagine si ispira l'oggetto ma dall'immagine l'essere umano attraverso la manipolazione crea l'oggetto e quindi nasce una circolarità questa circolarità dice flusser è magica scrive la difficoltà qui è che le immagini non si possono afferrare non hanno profondità sono solo visibili ma le loro superfici possono essere afferrate con le dita e sono le dita che estraggono la rappresentazione della superficie prosegue poi dopo poco scrivendo la lettura lineare nasce come risultato di questo afferrare la ferrare richiede una traduzione da rappresentazione a concetto una spiegazione delle immagini uno srotolare della superficie pittorica in linee di testo questa gestualità è l'astrazione di una dimensione della superficie pittorica riducendo così l'immagine a una linearità monodimensionale il risultato è un universo di testi calcoli narrazioni spiegazioni e promozioni di un'attività che non è magica in pratica con l'arrivo della scrittura sostiene flusser abbiamo perso l'elemento magico quarto passaggio quello davanti ai nostri occhi questo è quello che ci porta dal mondo in cui viviamo al mondo delle immagini tecniche flusser dice che i testi sono come fili di perle organizzati in modo da sottostare a regole ortografiche grammaticali il significato di un testo viene apprezzato e manipolato attraverso queste regole sia il testo che le immagini sono mediazioni ma dice flusser che questo non è stato così evidente per molto tempo in quanto il testo con tutte le sue regole ortografiche che sono anche matematiche produce effetti che sono molto più intensi di quelli delle immagini magiche che lo avevano preceduto tutte queste regole però sono artificiali e potrebbero essere sostituite da altre perdiamo quindi fiducia nelle regole sintattiche e con questi concetti perdono coerenza e i percorsi logici si sfaldano rimaniamo con nuvole di particelle le cui dimensioni non possono essere afferrate rappresentate o capite sono inaccessibili a mani occhi o dita ma possono essere calcolate come quando battiamo i tasti di una tastiera queste particelle possono essere assemblate in immagini solo le immagini tecniche flusser scrive la differenza tra immagini tradizionali e tecniche allora sarebbe questa le prime sono osservazioni di oggetti le seconde computazioni di concetti le prime sorgono da una rappresentazione le seconde da un curioso potere allucinatorio che ha perso la fiducia nelle regole questo saggio tratta di questo potere allucinatorio siamo arrivati alla fine del capitolo intitolato astrarre che è in pratica una introduzione a tutto il libro il libro organizzato in 20 capitoli ed il titolo dei primi 18 è un verbo all'infinito i titoli dei capitoli sono i seguenti astrarre che abbiamo appena discusso immaginare rendere concreto toccare visualizzare significare interagire diffondere istruire discutere giocare creare preparare decidere governare ridurre soffrire celebrare e poi un capitolo che si intitola musica da camera in questo penultimo capitolo flusser fa subito notare che a differenza di tutti quelli che lo hanno preceduto il titolo non è un verbo all'infinito musica da camera per finire sommario questo è il titolo dell'ultimo capitolo potrei forse fare una puntata tranquilli non succederà sulle problematiche presenti nel tradurre fluss per esempio la mia traduzione dei titoli dei capitoli appena fatta prima è in molti casi facile in alcuni casi molto complicata perché il verbo all'infinito inglese ha diverse possibili traduzioni in italiano la traduzione decisamente più difficile di tutte per le ramificazioni che ha in tutto il testo è stata quella real relativa al capitolo to envision che ho tradotto con visualizzare in realtà to envision ha tutta una serie di significati che vanno al di là di un puro atto di visualizzazione e che includono anche il verbo italiano immaginare o un significato che in italiano potrebbe essere rappresentato con tra virgolette mettersi nella condizione mentale che la tal cosa possa aver luogo questa moltiplicità di significati uno dei motivi che mi hanno costretto a ritornare al testo originale in tedesco dove il titolo del capitolo è einbilden la cui traduzione diretta in italiano e in inglese è rispettivamente immaginare e tu imagine usando visualizzare io ho voluto stressare l'aspetto fotografico immaginare porterebbe con sé una componente astratta creativa e proiettata verso un'aspettativa futura che visualizzare non ha cosa voleva dire francamente flusser però forse tutte e due i significati non lo so tema aperto questa lunga parentesi ha una sua motivazione molto pratica nella prima parte del libro esiste una figura importantissima che è quella degli envisioners coloro che envision i visualizzatori insomma coloro che visualizzano flusser chiamo in questo modo coloro che producono immagini tecniche e che ricoprono un ruolo fondamentale nell'universo flusseriano il termine non è certo comune in inglese come così come non è einbildner nell'originale tedesco sono quasi neologismi usati da flusser spero che questo punto sia chiaro comune a qualunque analisi del testo di flusser contenga un grado di indeterminatezza nei significati che forse aggiungo io sottovoce neppure l'accesso all'originale in tedesco sia in grado di risolvere completamente dopo astrarre una delle prime osservazioni che flusser fa è che le immagini tecniche hanno bisogno di apparati per essere prodotte e dato che le immagini sono informazione questi apparati in realtà producono ma anche memorizzano e distribuiscono informazione le immagini tecniche dice flusser sono reservoir di informazioni che servono la nostra immortalità nel momento stesso in cui un apparato nasce si pone immediatamente il problema di un suo uso automatico o semi automatico al momento decide flusser questi apparati sono ancora sotto il controllo dell'uomo nel futuro non troppo distante si libereranno dall'intervento umano e continua dicendo il pericolo presente nell'automazione che cioè l'apparato va davanti ad operare anche quando il risultato originale è stato conseguito è la vera sfida che si pone a coloro che producono immagini tecniche qui per la prima volta flusser introduce il concetto di envision visualizzatore immaginatore cioè il produttore di immagini tecniche ecco chi sono risponde flusser costoro sono quelli che premono un pulsante di un apparato per fermarlo in una situazione volutamente informativa sono persone determinate a controllare l'apparato malgrado la sua tendenza a diventare sempre più automatizzato e quindi insomma preservare il primato del giudizio umano sulla macchina i visualizzatori sono coloro che cercano di rivoltare l'apparato contro la sua stessa condizione di essere automatico se per esempio confrontiamo il comportamento di un fotografo con la sua macchina a quello di una macchina fotografica posta su un satellite che funziona automaticamente la seconda quella sul satellite sembra scattare in modo casuale mentre il fotografo scatta solo quando si avvicina ad una situazione che risponde alle sue intenzioni ma se guardiamo in dettaglio il gesto del fotografo non fa che portare avanti il programma interno dell'apparato certo l'apparato fa quello che desidera il fotografo ma il fotografo può solo desiderare quello che l'apparato può fare scrive flusser non solo il gesto ma anche l'intenzione del fotografo è funzione dell'apparato ciò nonostante una foto fatta in modo totalmente automatico si distingue chiaramente da una fotografia fatta da chi ha visualizzato l'immagine perché nel secondo caso un'intenzione umana lavora contro l'autonomia dell'apparato dall'interno dalla stessa funzione automatica c'è quindi una contraddizione intrinseca nelle immagini tecniche e sono totalmente diverse dalle immagini tradizionali ciò significa che quando parliamo del significato delle immagini tecniche del decodificarle dobbiamo essere consapevoli che il significato delle immagini tecniche deve essere cercato in un posto diverso da quello delle immagini tradizionali qui flusser introduce il concetto di tasto è un capitolo rappresentativo di quello che è questo lavoro di flusser ci sono affermazioni palesemente sbagliate da un punto di vista strettamente tecnico a intuizioni dove chi legge rimane affascinato dalla potenza della visione proiettata verso il futuro da parte di un non tecnico non scienziato nel 1985 non voglio usare la parola preveggenza perché non credo nella sfera di cristallo altrimenti la userei senza timore vedremo un paio di esempi fra poco dicevo prima che in questo capitolo viene introdotto il concetto di tasto anche qui c'è una vaghezza di significato in quanto il tasto in italiano è solo una delle possibili traduzioni di chi che è il sostantivo presente nel testo inglese piuttosto che di taste nell'originale tedesco il tasto comunque ciò che viene premuto e da qui parte un ragionamento sulla creazione di un testo e in che modo si possa distinguere se si può lo stesso identico testo generato da uno scimpanze casualmente da quello di un essere umano che ha selezionato scientemente le parole per dare al testo un significato la discussione è solo un modo di percorrere in altro ambito il tema ricorrente delle immagini tecniche generate automaticamente oppure no flusser fa un passo indietro e torna in qualche modo all'esempio iniziale della scala pioli e dice che l'azione è il primo gesto che libera l'essere umano dal mondo che lo circonda il secondo è l'osservazione visiva il terzo è la spiegazione concettuale il quarto è il tocco computazionale questo tocco computazionale quello che dà al mondo un significato perché tocco computazionale perché è come quello di premere il pulsante di scatto che genera un'immagine tecnica che è informazione e da qui l'uso del termine computazionale che io oggi trovo discutibile e inesatto ma che nel 1985 probabilmente ci stava anche flusser riconosce l'esistenza di due chiavi una produttiva l'altra riproduttiva la prima schiacciato un tasto manda manda messaggi e rende il privato pubblico è quella usata dai produttori televisivi per trasmettere i programmi che rendono pubblico il loro pensiero privato la seconda schiacciato un tasto riceve messaggi e rende privato ciò che è pubblico è il pulsante del televisore che ricevendo il programma pubblico lo immette in una sfera privata privata cioè un messaggio generato nella sfera privata del produttore viene trasmesso attraverso una sfera pubblica alla sfera privata del ricevente ma questa visione del processo di creazione e comunicazione dell'informazione è profondamente sbagliato dice flusser perché in un mondo regolato dalla pressione su dei tasti il pubblico e il privato cessano di esistere come entità separate ancora per un po si potrebbe esercitare del controllo ma presto allacciandosi al villaggio globale di McLuhan il villaggio non esisterà più perché non ci sarà più una piazza pubblica e delle case private quando la distinzione cessa di esistere cessa anche l'esistenza di un villaggio globale c'è solo un'immensa frammentazione di particelle flusser scrive coloro che producono immagini tecniche fotografi cameraman produttori di video informatici sono letteralmente alla fine della storia con la s maiuscola nel futuro chiunque produrrà chiunque sarà in grado di usare questi tasti che permetteranno loro e tutti gli altri di sintetizzare immagini sullo schermo del computer il mondo in cui si opera si è disintegrato in particelle nella ragnatele infinita che connetterà tutti i tasti insieme in questo nuovo mondo e che richiama la struttura del cervello flusser dice che il tasto di avvio della lavatrice e quello di scatto della macchina fotografica saranno indistinguibili entrambi mandano e ricevono ma mi date del matto se questo nel 1985 è una descrizione abbastanza puntuale di la macchina fotografica di internet di fa